Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale ITV City, in apertura all'emergenza sanitaria con la campagna di vaccinazione che prosegue. Oltre un terzo degli italiani è ormai immunizzato. Passiamo ora alla cronaca con l'arresto dei due spacciatori nel napoletano, sequestrati oltre 11 mila euro, incontanti. Passiamo ora all'emergenza rifiuti a Torre del Greco. Questa mattina siamo stati in zona Porto per mostrare il disagio che c'è, come al solito, ogni lunedì mattina. In conclusione, la bella iniziativa dell'associazione Set Me Free. Gli alunni dell'Istituto Cristoforo Colombo hanno ridipinto la facciata della scuola. Questo ed altro nei nostri servizi. L'Italia sta per tagliare il traguardo dei 20 milioni di immunizzati, ma la sfida non è ancora vinta, avverte il ministro della Salute Speranza. La campagna di vaccinazione punta ora su teenageri over 60, che non hanno ancora ricevuto la prima dose. Per garantire l'avvio della scuola è un'autunna in sicurezza, malgrado i prevedibili effetti della variante Delta. I gestori delle discoteche insistono, fateci riaprire, i locali sono sicuri. Si apprestano a tagliare il traguardo dei 20 milioni, oltre un terzo della popolazione complessiva, gli italiani immunizzati contro il Covid. L'ultimo numero della struttura del commissario Francesco Figliuolo indica a metà pomeriggio di ieri 19 milioni 960 mila 78 persone, con entrambe le dosi fatte o la dose unica. Da Palazzo Chigi fanno sapere che la campagna procede regolarmente secondo programma. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, invita tuttavia alla prudenza. Non dobbiamo, avverte, assolutamente considerare vinta questa sfida. La partita è ancora tutta da giocare e l'epidemia non è chiusa. Diverse regioni sono alle prese con lo slittamento delle prenotazioni, tenendo conto dello stop di AstraZeneca e Johnson & Johnson per gli under 60 e di un calo delle forniture del 5% per il mese di luglio dei vaccini a RNA messaggero, Pfizer e Moderna. Se finora poteva essere anche accettato un atteggiamento di prudenza riguardo al vaccino facendo un rapporto costo-beneficio e si poteva in qualche maniera pensare di aspettare e vedere l'evoluzione, il quadro epidemiologico con la variante Delta che abbiamo di fronte porta in qualche maniera come consiglio di affrettarsi a fare la vaccinazione prima dell'inizio della scuola. Così dichiara a Lanza il presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli, sulla vaccinazione degli adolescenti, mentre per una spinta tra gli over 60 serve ora superare gli hub e coinvolgere i medici di base. Il gruppo della Guardia di Finanza di Giuliano in campagna ha tratto in arresto a Marano di Napoli tre spacciatori sottoponendo a sequestro oltre 22 kg tra hashish e marijuana, nonché 11.000 euro in contanti. A portare a termine le operazioni sono stati finanzieri della compagnia di Pozzuoli, coagliuvati da un'unità cinofila della compagnia di Capodichino che, insospettiti da uno strano via vai di persone, hanno individuato un'abitazione nella quale avveniva lo smercio dello stupefacente, confezionato in singole dosi attraverso l'utilizzo di macchine per il sottovuoto e termosigillanti. Intuendo l'esistenza di una vera e propria piazza di spaccio, le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire all'interno di una fossa profonda circa due metri e scavata nel terreno adiacente all'abitazione, oltre a 10 kg di hashish suddivisi in 90 panetti e circa 12 kg di marijuana suddivisi in 29 buste celofanate e 6 180 dosi. Se immessa nel mercato, la droga avrebbe fruttato profitti illeciti per oltre 250 mila euro. L'intervento rientra nel quadro della costante attività di prevenzione generale e di controllo economico del territorio svolta dalle fiamme gialle partenopee, al fine di contrastare fenomeni di illegalità diffusa come il traffico di sostanze stupefacenti. Nessun miglioramento per quanto riguarda la situazione di rifiuti in zona porto. Tante le segnalazioni dei cittadini che vivono in una situazione di disagio perenne. Camminando in zona porto si notano subito le esalazioni emanate dai depositi di rifiuti, che creano non pochi fastidi all'olfatto e soprattutto alla salute di chi abita e frequenta quegli spazi. La cosa che più fa scalpore sono come al solito gli ingombranti. Vasi di porcellana, elettrodomestici rotti, televisori, pezzi di mobilio. Tutti questi rifiuti rendono impossibile l'agibilità dei cassonetti per chi vorrebbe utilizzarli in modo corretto. Aggravante il fatto che sia lunedì mattina, perché la domenica non vengono ritirati i rifiuti e quindi il sabato non bisognerebbe depositarli. Rimane l'inciviltà generale, ma si resta in attesa di un servizio che possa risolvere questi disagi. Questa mattina gli alunni dell'Istituto Cristoforo Colombo e Torre del Greco hanno ridipinto la facciata esterna dell'edificio. L'iniziativa è stata organizzata all'associazione Set Me Free. Sono in formazione artistica con un gruppo di ragazzi dell'Istituto Colombo, proprio per realizzare dei murales all'interno della scuola e anche all'esterno. Un'iniziativa del por modulo scuola murales. I ragazzi sono impegnati nella realizzazione di dipinti che parlano della storia di Torre del Greco e in particolare invece fuori realizzeremo il nome dell'Istituto. Quindi un progetto che sia coinvolge i ragazzi sia cerca di far conoscere la nostra storia? Certamente, perché la storia di Torre del Greco è molto importante e soprattutto ha origini molto vetuste. Si cerca di raccontare la storia di Torre del Greco dal flore e soprattutto anche rappresentando dei monumenti. Quindi cosa ci sarà in questo murales? In questo murales all'esterno cercheremo di distinguere bene l'identità di questa scuola e quindi scriveremo Istituto Cristoforo Colombo. In effetti noi abbiamo dipinto due sedi. Ci sono altre scuole che hanno aderito a questo progetto con l'associazione? Sì, su tutto il territorio campano. L'associazione Settmi Free ha molti progetti itineranti. Su Torre del Greco sono almeno cinque anni. Questa è la quinta edizione che facciamo. Loro stanno realizzando per esempio la Merigo Vespucci. Poi hanno fatto anche delle immagini riportate al muro relativamente ai comandanti, ai capitani e anche i ruoli della scuola IPMAT perché poi la scuola Colombo comprende sia l'Istituto IPMAT che l'Istituto Nautico che si trova in Villa Comunale. Quindi loro adesso stanno realizzando quello che INDAD avevano un attimino programmato e riportandolo poi dal vivo chiaramente con dei murales. Stiamo continuando un progetto INDAD che è cominciato in DAD, murales, poi ovviamente è continuato in presenza. Abbiamo cominciato con delle lezioni teoriche di studio di anatomia e poi ovviamente di studio anatomico, di proporzioni eccetera. Ora ovviamente queste lezioni vengono proiettate poi dal vivo ovviamente. Quanto è importante dopo quasi due anni di DAD tornare a fare un'esperienza tutti insieme fra compagni? Ovviamente è fondamentale e importante per i ragazzi della nostra età. Ovviamente creare un rapporto che già comunque è nato nei vari anni scolastici ma comunque confermare questo rapporto è fondamentale vedersi anche dai miei amici, anche scherzare, ridere. Comunque cercare sempre di mantenere quell'animo che abbiamo creato in classe ovviamente. Quindi è di fondamentale importanza. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione-tvcity.it o al numero di telefono 340-6561-484. E con questo è veramente tutto io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Grazie a tutti.